Caro Fulvio con camicia in saldo! Non è proprio il tuo stile. Facciamo finta di essere in una masseria pugliese d'estate. Con questa camicia potrebbe essere. Proprio oggi è giusto. Oggi è proprio il freddo di oggi. Facciamo questo pane sole del sud. Sì, ma ci scaldiamo con il pane, che è un'interpretazione casalinga dei grandi pani del sud Italia, come ad esempio quello di Altamura, parliamo delle murge. Allora, andiamo con un chilo di semola di grano duro e l'acqua totale sono 700 grammi, ma iniziamo a metterne circa 600 grammi all'interno senza lievito e iniziamo ad andare a premiscelare questo impasto, quindi composto da tutta la farina della ricetta e il 60% di acqua rispetto alla farina, quindi 600 grammi d'acqua, perché quando impasto il grano duro lo faccio spesso, questo preimpasto che è chiamato anche autolisi. Semplicemente, vedi, bisogna... Viene la terra, viene la sabbia. Esatto, questa è la, diciamo, la texture giusta che deve avere, che deve riposare per circa un'oretta, in questo caso, perché il grano duro, essendo molto tenace come glutine, quindi essendo poco estensibile, facendo questa lavorazione qua, questa premiscelazione delle farine, renderà il nostro impasto più lavorabile e iniziamo anche ad innescare, diciamo, dei processi enzimatici, tali per cui nel momento in cui metteremo i nostri lieviti all'interno del nostro impasto, l'impasto sarà più preparato a cibare, appunto, i nostri lieviti. Quindi facciamo finta che sia passata un'ora, a questo punto andiamo con il nostro lievito madre, che sono 200 grammi. Se non abbiamo il lievito madre, lo possiamo sostituire a 8 grammi di lievito fresco di birra. Andiamo a inserire ancora un po' d'acqua per amalgamare bene il nostro impasto e continuiamo ad impastare. L'assorbimento del grano duro è molto, molto più lento rispetto a un grano tenero, quindi possiamo impastare, i tempi di impasto sono leggermente più lunghi. Grano duro che la differenza tra il grano tenero e il grano duro spesso non si sa. Sono due specie completamente diverse, nel senso che una è il triticum durum, appunto, mentre il grano tenero è il triticum estivo. Hanno anche, diciamo, un corredo genetico diverso. Il grano duro è un tetraploide, composto da 28 cromosomi, mentre invece il grano tenero è esaploide, 42 cromosomi. Quindi abbiamo proprio dei corredi genetici completamente diversi. Anche la genetica del pane. E poi, molto semplicemente, il grano duro, a seguito della macinazione, il primo prodotto è semoloso, quindi da semola, se si vuole la farina, bisogna rimacinare, appunto, con un ulteriore passaggio, la semola di grano duro, mentre invece il grano tenero dà immediatamente la farina. E quindi sono proprio due tipologie, proprio anche a livello di struttura, completamente diverse. Ecco qua, vedi che ci siamo quasi, l'ho impastato, e manca solo più il nostro sale, che sono 20 grammi, che andiamo a bagnare con l'ultima acqua e andiamo a farlo assorbire piano piano, in maniera molto, molto delicata. Ci potrebbe volere, almeno, anche una ventina di minuti di impasto. Quindi, ho capito che bisogna impastare molto, prima col cucchiaio e poi anche a mano. Esatto, esatto. Quindi, prima l'irritazione, lo copriamo con la pellicola, andiamo in frigorifero per 12 ore. Pellicola, frigorifero, 12 ore. In modo che il nostro impasto... Non ci dormite su. Esatto, in modo che il nostro impasto diventi bello lavorabile. Allora, la forma molto, molto interessante, la pre-forma, in questo caso, utilizziamo semola di grano duro, pochissima sul tavolo, e andiamo a appoggiarci il nostro impasto direttamente sul tavolo e andiamo con, aiutandoci con un po' di farina, a dividerlo in due. Vedi che è molto, molto liquido. Liquido, diciamo morbido. E andiamo a fare una forma leggermente allungata. Facciamo forme, possono essere da minimo 600 grammi, ma questi sono pani che vengono fatti anche da un chilo, due chili di grandi pezzature. Io in questo caso divido il nostro impasto a metà. Allora, andiamo sulla nostra teglia e facciamo il primo riposo, che deve andare da circa minimo un'ora, ma ad un massimo anche di due ore. l'importante è che la lievitazione venga fatta al caldo, questa lievitazione qua. Guarda, guarda che ciccioni! Devevano proprio allargarsi. Guardate che ciccioni che sono diventati. Questo passaggio è fondamentale a casa. Allora, la formatura di questo pane, che è molto, molto interessante. Allora, semola sul tavolo, in questo caso. Eccoci qua. Prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo direttamente sul tavolo, ce lo aggiustiamo e creiamo un rettangolo disordinato, se così vogliamo dire. Andiamo a piegare prima le due orecchie laterali, andiamo a chiuderlo in questo caso da una parte, chiudiamo di nuovo questa parte e andiamo a chiuderlo ancora. Stesso discorso, lo facciamo... Sembra un grande divano. Esatto, lo facciamo in questo caso. E poi c'è la parte più bella, dove con il braccio si schiaccia e si crea questa pagnotta che poi deve, diciamo, riposare ancora per dai 15 ai 30 minuti, eccolo qua, a temperatura ambiente. Questo veniva fatto perché solitamente il panettiere è da solo a infornare in questi grandi forni dove ci stanno anche circa 50 pagnotte all'interno del forno. E la formatura, diciamo, la pagnotta, se infornata, diciamo, direttamente, potrebbe essere... Si slabra. Esatto, quindi questo serviva in questo tempo per dare poi un po' di forza al nostro impasto. La cottura è molto, molto importante perché sono forme abbastanza grandi e che devono avere una crosta abbastanza ruvida. Quindi andiamo in cottura a 250 gradi subito, appena inforniamo il pane, abbassiamo il forno a 200 gradi e facciamo cuocere per almeno 45 minuti, dipende dalla pezzatura. 45 minuti a 200 gradi? Ma io, gli ultimi 20 minuti, io ho messo, vedi, un cucchiaione. Il famoso cucchiaio che viene... è aperto nel chiuso. ...per far uscire bene bene il nostro vapore. E questa chiusura che noi abbiamo fatto, naturalmente, si allarga. Guardate questo pane, ve l'avevamo fatto vedere. Guarda che meraviglioso. È una roba meravigliosa. Ecco nel sole, come calta il pano. E' un'istiazione in Italia. Eh, guarda che roba. E andiamo a tagliarlo. Venti che bella crosta che ha. E questo è il pane sole del sud di Fulvio Marino. Lorenzo, vieni pure ad assaggiare, mentre io vado a rispondere, cioè a prendere, a dare l'ultimo.